Questa mattina quando ho visto Silvia Mi sono emozionata perché non me l'aspettavo così bella in questo giorno, un po' così emozionante per lei e per tutti. In un certo senso era un po' il sogno di tutte vederci a vicenda con il vestito da sposa, quindi è bellissimo. Quando sono incontrati ancora mi ricordo qualche Andrea mi disse Ho conosciuto una su internet, Natal Silvia, ma quanti anni c'ha? Ce n'ha undici meno di me. Ah, quindi facendo due conti, te ce n'hai trenta, lei ce n'aveva diciannove. E io pensavo, vabbè domani mi dirà che l'ha mandata a quel paese. E invece pare che ancora non c'è l'ha mandata a quel paese. E io pensavo, vabbè domani mi dirà. Eh, questa coppia è particolare, ci piace. E' una coppia che si vede che stanno bene insieme, che vanno pari passo e ci sanno compensare a vicenda. Io vi auguro che i loro cuori siano sempre appesi da noi. Ok, dai, 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 profita, profita. Aiuto, basta. Eh, dai, 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 dai. Grazie.